Easy, Easy, EasyZip Come convertire DNG in JPEG Vai a EasyZip.com e fai clic su Converti, Immagini, quindi naviga per convertire DNG in JPEG. Fai clic su Seleziona file DNG da convertire per selezionare i file che desideri convertire. Fai clic sul pulsante verde Converti in JPEG in basso per avviare il processo di conversione. Una volta che tutti i file sono stati convertiti, ti verranno presentati nuovamente i file. Fare clic su Anteprima per vedere le nuove immagini nel browser. Se sei soddisfatto, fai clic su Salva per salvare i file convertiti sul tuo computer. È così facile. Spero che aiuti. Clicca sul logo e iscriviti. Significherebbe molto per noi.